Presentato ieri presso il Conservatorio di Santa Sofia di Monte Corvino Rovella, il primo corso del progetto Open Space, inserito nell'ambito di benessere giovani, che darà la possibilità a 40 giovani del territorio di formarsi sui temi dell'innovazione e dell'autoimprenditorialità. A partecipare alla conferenza anche il direttore artistico del Giffoni Experience Claudio Gubitosi. Le cose vanno fatte perché noi abbiamo bisogno che le cose vengano realizzate, forse sembra un gioco di problemi ma non è così, non è così perché la voglia che abbiamo in questo paese, caro Claudio, è tanta, c'è una voglia di riscatto, c'è una voglia di fare, c'è una voglia di realizzare, c'è una voglia di trasformare, c'è una voglia di essere protagonista del nostro territorio e i giovani però devono essere invogliati. una figura come te, una figura come quello che hai fatto e creato, per noi è un momento importante perché serve per far capire che nelle difficoltà di quanto si può realizzare qualcosa, pensare a quello che è nato a Giffoni, qui vicino a pochi chilometri da noi, che poteva pensare forse tanti anni fa qualcuno era preso pure il foglio, quello che immaginiamo. e quindi questo qua devi dire, soprattutto a voi ragazzi, che si può fare, possiamo realizzare i nostri sogni, questi costi devono servire a poter sviluppare la vostra capacità. Io ho detto il giorno dell'inaugurazione della filosofia che questo luogo profuma di storia, di tradizione, di bruttura, ma da oggi cominciamo a scrivere una nuova pagina bianca per Montecorio Romero e per Vicente. Una pagina che deve raccogliere quello che è stato, farlo patrimonio nostro, ma soprattutto dare un nuovo lancio per creare quelle che sono le possibilità dei giovani, ma anche dei meno giovani, per trasformare e dare un nuovo verbo al territorio.